Good morning Milano! Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. 7.05 venerdì 22 marzo, thanks god is friday e soprattutto venerdì 22 marzo, sì come via il corso, come il corso 22 marzo, proprio quello sì, perché oggi è l'ultima giornata delle cinque giornate di Milano ma ne parliamo dopo perché vi spiego bene cos'è. Chissà se anche a lei ha detto oh thanks god is 22 marzo, chissà ce l'hanno detto, non lo so. Comunque oggi appunto è il 22 marzo, iniziamo una nuova puntata di Good morning Milano qui su Crystal Radio, quella che chiude la settimana ma che vi dà l'appuntamento poi dopo il weekend, anzi vi dà gli appuntamenti del weekend, vi dice cosa fare, vi saluta e poi dopo ci rivediamo lunedì tranquillamente. La giornata di oggi è famosa anche nel mondo perché il 22 marzo del 1963 usciva il primo disco dei Beatles, ebbene sì, Please Please Me, quello lì, quello lì, usciva proprio il 22 marzo del 1963, pensate tutto il disco durava 32 minuti, via veloce, via senza troppe menate, 14 canzoni che non sono poche se ci pensate, sono tutti in 32 minuti, duravano niente, erano così, veloci, veloci, senza avere TikTok soprattutto, quindi chissà. 3317853555, ho detto Beatles? Sì l'ho detto, e allora iniziamo proprio con loro, anzi, visto che oggi è uscito il primo album, mettiamo l'ultima canzone dell'ultimo album uscito di Beatles, sì così, voglio fare questo collegamento tra la prima canzone e l'ultima canzone. Era l'album, si chiamava La The Bee, era il 1970 e la traccia numero 12 di quell'album era una canzone che è passata la storia anche perché poi è stata suonata su un tetto della casa discografica dei Beatles, vabbè qualcosa di pazzesco, anzi vedetevi il documentario che c'è proprio su Disney Plus davvero interessante che si chiama Get Back. Get Back, Get Back dei Beatles nella versione rimasterizzata del 2009, quella che si sentono anche proprio le voci di John, Paul, Ringo e George, Get Back che è anche appunto il titolo del documentario in tre puntate per il totale di 468 minuti, ma che ragazzi posso dire, 468 minuti che passano via velocemente dalla regia di Peter Jackson, sì proprio quello lì, quello del Signore degli Anelli, sì un lavoro pazzesco che poi ha portato anche alla realizzazione dei nuovi album, delle nuove canzoni dei Beatles, comunque è davvero qualcosa di stupendo, questa era Get Back appunto, l'ultima canzone dei Beatles nel giorno in cui l'ultima canzone del studio è uscita, poi in realtà sappiamo tantissimi album postumi e tutto, ma è l'ultima canzone appunto registrata tutti insieme in studio e è uscita con la traccia numero 12 dell'album di Lady B nel giorno appunto in cui festeggiamo l'uscita, anzi adesso come l'introduzione, l'introduzione, l'uscita, la pubblicazione del primo album dei Beatles che era Please Please Me uscito il 20 marzo del 1963, 22 marzo scusate del 1963, 22 marzo 22 marzo vi ho detto che è anche questa cosa qui eh la riconoscete? Eh sì sì, la marcia di Radetzky, quella lì, quella lì, quella Radetzky lì eh, tutti insieme, tutti insieme ancora? Aspetta dove è finita? Qua, eccola qua, qua Eh sì, Radetzky, il genere Radetzky è quello delle cinque giornate di Milano perché oggi appunto è l'ultima delle cinque giornate di Milano, 18, 19, 20, 21 e 22 marzo del 1848, quella roba lì, eh, da una parte il regno Lombardo-Veneto, dall'altra il dominio, l'impero austriaco, con appunto il generale Radetzky, la cosa interessante è che se andate a vedere i protagonisti, adesso non entriamo nella vicenda, anche perché sono le 7.12 del mattino adesso ci mettiamo qua a fare lezioni di storia, anche no, la cosa divertente è un'altra però, che se andate a vedere chi sono i protagonisti della storia, diciamo, allora abbiamo Carlo Cattaneo, una via di Milano, poi Casati, anche lui c'è la via, poi Clerici, anche lui c'è la via, Terzaghi, anche lui, Radetzky, c'è tutta gente che ha rifatto la toponomastica di questa città, diciamo, quindi interessante anche questa parte qui. Comunque non vi ho ancora detto come fare invece a interagire con noi in questa giornata di giubile e gioia che è il venerdì, 331-78-535-55, il nostro numero di whatsapp a cui potete tranquillamente scriverci, noi siamo qui, oggi siamo entrati qualche minuto prima, so che vi abbiamo scombussolato, non siete in ritardo, perché so che ci sono gente, c'è gente, la gente è strana, prima ti ascolta e poi corre, perché so che molti di voi usano la nostra trasmissione come fosse la scaletta della mattina, cioè dicono, ah no, se parte luce verde sono in ritardo, perché luce verde va a quell'ora lì, o altri che dicono, ma no, non è ancora data la pubblicità, quindi posso prendermela con calma, esco quando parte la pubblicità, ecco, no, oggi siamo entrati un po' in anticipo, quindi fate attenzione a riallinearvi con il vostro bioritmo, ma soltanto con l'orologio che avete sulla parete o sul vostro smartphone, cioè non state a seguire noi questa mattina. Grazie mille al whatsapp che è arrivato adesso, che dice buongiorno e buongiorno e buon weekend a Fabio, a tutti gli amici di Cristal Radio, Milano, in ascolto e ricambio gli auguri. Domenica delle palme e una settimana siamo già a Pasqua, ebbene sì, ieri Natale, oggi è Pasqua, così in un attimo, debotto. Andiamo invece a vedere come va la situazione del traffico invece a Milano, grazie a luce verde, linea a voi! Bon Marley, cool jubile, 17, anzi 18 minuti in questo istante all'orologio di stazione, qui a Cristal Radio, 331-7853-555, il numero di whatsapp a cui potete scriverci per condividere con noi la vostra mattinata e siamo pronti anche a leggere qualche notizia. Ovviamente ancora la questione della scuola di Pioltello, ve l'avevo detto, dovremmo continuare a parlare, ma finalmente forse arriva quello che almeno per me è il punto finale, ma soprattutto è la conferma che stiamo parlando del nulla, perché Pioltello, leggiamo da Corriere della sera a Milano. Pioltello, i genitori della scuola che chiude per la fine del Ramadan, due punti, aperte di virgolette, noi dalla parte di preside e professori, benissimo, lettera aperta dei genitori del Consiglio d'Istituto dell'Iqbal Masì di Pioltello, la scuola, faro e realtà integrante della società, non può rimanere estranea al contesto in cui pone le sue radici e da cui prende vita ogni giorno. Bellissimo. Ora vedrebbe tutto questo casino, ma i genitori sono d'accordo ovviamente, perché sennò la scuola non lo faceva senza aver parlato col Consiglio d'Istituto anche in cui fanno parte anche i genitori. La cosa che ancora però mi spiace è che continuiamo a giocarci sul discorso dell'integrazione, che è sacrosanta e reale, ma che in questo caso c'entra fino a un certo punto, nel senso che è una conseguenza normale di un'integrazione già avvenuta, che non è il fatto che si facciano la loro festa a casa loro. No, è il fatto che una parte di popolazione di Pioltello festeggia questa ricorrenza, in cui viene invitata anche l'altra parte, perché ricordiamo questa cosa che il primo giorno, subito il primo giorno, il preside l'ha detto, attenzione perché non ho solo i ragazzini e le ragazzine di fede islamica che non vengono a scuola. Anche gli amici di questi che vengono invitati alle varie feste, perché è come una festa di compleanno, non è che, allora, adesso Elisa è il regia, fa il compleanno, fa la festa, ma non invita nessuno perché la festa è mia e me la faccio da sola. No, è uguale, è la stessa significa cosa, se va a una festa invita la gente, quindi rischierei molto evidente di avere la redazione con gente che va alla sua festa. Poi se lo fate in orario di lavoro vi prendo, no, scherzo, però nel senso, capite quel concetto? Allora, lì è una roba, si è trovata la soluzione, perché il preside intelligentemente, il Consiglio di Istituto ha trovato una soluzione intelligente nel dire, va bene, iniziamo la scuola un giorno prima, lo possiamo fare, la legge ce lo permette e mettiamo un giorno in più di vacanza. E vi dico di più, se anche la legge non lo promettesse, beh, la legge è sbagliata, posso dirlo, se c'è questa autonomia scolastica, diamine, diamo questa autonomia scolastica alle scuole, vero, non solo quando ci fa comodo perché devono sbrigarsi le robe fastidiose, no, no, anche invece in questo caso mi fa molto molto piacere sapere che appunto i genitori della scuola sono ovviamente dalla parte di preside professori che comunque appunto ricordano come questa scuola facendo così integra sempre di più in un territorio complicato, ma che poi è anche vero, cioè un territorio variegato perché poi non è neanche così complicato dicevano all'interno della scuola, cioè si riesce a gestire tutto tranquillamente se non ci si mette altri, noi, a metterci di mezzo, cioè se non incominciamo giornalisti, politici e tutto il circondato, tutto il circo che c'è intorno ad andare a rompere le scatole. Lasciamoli tranquilli, soprattutto poi immagino in questi giorni cosa sia andare a scuola lì e soprattutto anche cosa sia magari anni di lavoro sull'integrazione bruciati in un attimo perché poi comunque il bambino a volte fa domande, a casa la risposta magari può essere un po' più stupida, un po' più superficiale e quindi va tutto a ramingo. Insomma ragazzi, dopodiché, lo dico, se qualcuno di Piottello in ascolto io verrei volentieri alla festa il 10 aprile a festeggiare con voi, se magna da Dio nel giorno della fine di Ramadan, quindi se volete io vengo e poi testimonio che effettivamente era bellissimo fare tanta tanta festa insieme, non c'è problema, chiudiamo anche noi un giorno per venire a Piottello a festeggiare. Ah, noi ci siamo! Rhythm is a Dancer degli Snap alle 7.25 minuti, sempre qui su Cristal Radio venerdì, non abbiamo detto la cosa più importante di oggi però venerdì 22 marzo 2024, cioè che c'è lo sciopero dei mezzi. Ebbene sì, sciopero dei mezzi ATM a Milano venerdì 22 marzo, leggiamo da Corriere della Sera Milano, a rischio metro, bus e tram. Allora, l'agitazione è proclamata dal sindacato Alcobas dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino a fine servizio. Regolari invece i mezzi di Trenord, ma sabato e domenica potrebbero subire cancellazioni, quindi insomma va bene oggi ma va bene nel weekend. Comunque, possibili disagi appunto quest'oggi a Milano, lo sciopero, ripeto, inizia alle 8.45 e finisce alle 15 e poi dopo dalle 18 fino alla fine del servizio. A rischio sono i metro, gli autobus e i tram di ATM. Attenzione, lo dico sempre a chi viene da fuori Milano, anche però alle altre autoguidovie, a quelle aziende lì che fanno sciopero perché anche loro hanno altre fasce di garanzia, leggermente spostate a volte, quindi bisogna sempre stare un po' attenti a quello che si fa e quindi magari fate un giro sul sito oppure prendetevi quello prima così siete più tranquilli che dovrebbero passare. Invece se prendete i treni siete sempre in ritardo come al solito, ma non è quello il problema oggi dello sciopero. Però attenzione perché ci potrebbero essere cancellazioni o rallentamenti tra sabato e domenica per un sciopero nazionale proclamato da CUB Trasporti, SGB e USB, solo per quanto riguarda il comparto dei treni, quindi Trenord in questo caso se parliamo di Milano, nella giornata di sabato e domenica. Invece oggi, vi ricordo l'ultima volta prima della pausa, 8.45.15 e dalle 18 fino a fine servizio. Shopero ATM oggi a Milano, quindi andate, ne uscite un po' prima, andate di corsa, prendete mezzi alternativi. Bicicletta, oggi bicicletta, dai si può prendere la bicicletta, oggi ci sta bene. Club Dogo, dididi, dididi da 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 da, così potrebbe, no, dididi e basta comunque, non so, mi era preso bene. 7.35 minuti, notizie ancora da Milano. Cosa abbiamo? Una brutta storia che è avvenuta in Viale Monza, se non sbaglio, sì, appunto. Leggiamo da Repubblica Milano, ciclista aggredita a precotto da un automobilista. Gli ho detto che non poteva parcheggiare sulla ciclabile, mi ha buttato per terra e ha lanciato via la bici. La giovane denuncia, ogni giorno sono costretta a fare lo slalom per i veicoli fermi sulla corsia per le due ruote. Non so come sarebbe finita, mi hanno salvato alcuni passanti. L'automobilista si è giustificato dicendo che aveva a bordo una donna di 90 anni. Quindi, secondo il nuovo codice della strada, se avete una donna di 90 anni potete menare la gente che vi chiede perché avete rosteggiato su una pista ciclabile. Chiediamo al ministro delle infrastrutture se per caso c'è anche questa norma nel nuovo codice della strada. No, insomma, questo fa capire una cosa. Prima di tutto, che quella pista ciclabile è lì che serve, ma è fatta malissimo. Cioè, diciamocelo, è fatta malissimo. Viale Monza è un viale che necessita per forza che la gente metta la macchina in doppia fila per fare le sue cose. C'è poco da fare. Perché? Perché hai magari una donna di 90 anni in macchina. Dopodiché sappiamo anche benissimo, come tantissime altre volte, non abbiamo nessuna donna di 90 anni in macchina. Noi ne abbiamo 42 e facciamo finta di avere 90. Quindi dobbiamo forza posteggiare davanti ai posti perché non sembra che fare quattro passi a piedi ci rovini il fondo delle scarpe e quindi non possiamo farli. Ma in realtà c'è un altro tema che è il fatto di aver imposto queste piste ciclabili in zone dove la cittadinanza di lì non le voleva o meglio non gli sembrava necessario averle. E dall'altra parte abbiamo estremizzato il conflitto perché quelli che passano in bici si incazzano all'istante appena vedono le macchine posteggiate in seconda fila. Giustamente da una parte anche un po' meno dall'altra. Quelli in macchina si irrabbiano comunque dicendo eh io prima la mettevo qui senza problemi adesso ci sono questi fricchettoni che passano in bicicletta. Tra parentesi i fricchettoni che passano in bicicletta spesso e volentieri non sono fricchettoni ma è gente che va a lavorare e quindi non è gente che va a fare la scampagnata. Comunque e anzi un saluto anche ai fricchettoni che comunque sono sempre simpatici e è bello vederli passare ogni tanto. Ma eh quello che dobbiamo smettere di fare appunto questo eh contraposizione auto bicicletta. Anche perché tantissimi che usano la macchina a settimana poi sono quelli che vanno a fare il lungo in bicicletta nel weekend e vanno a farsi i giri a con ma non i giri i giri a con la bici da corsa e tutto. Molti che durante la settimana utilizzano la bicicletta per muoversi in città sono gli stessi che poi nel weekend vanno a farsi il weekend al lago in macchina. Quindi noi tutti siamo allo stesso tempo spesso e volentieri quasi tutti almeno due cose pedoni e automobilisti spesso e volentieri pedoni ciclisti e automobilisti va bene? In tutto questo poi ci sono anche quelli con monopattini ma vabbè quelli facciamo fitte di non vederli. No scherzo scherzo no anzi quelli basta anche lì se le piste ciclabili fossero fatte bene e decidiamo questi monopattini se devono andare in pista o in pista facciamo un favore a tutti. Quello che capisco è che c'è tanto tanto nervosismo non solo legato ovviamente alla pista ciclabili ma ogni volta che mettiamo un tastello in più in questa città lo mettiamo carico di nervosismo quindi la vogliamo piantare di fare le cose in maniera ideologica in maniera ecco adesso pista ciclabili ovunque no parliamo con i cittadini capiamo ok l'invia le monza va fatta perché se uno arriva da fuori milano in bici e può farlo lo deve poter fare in sicurezza in questo momento quella pista ciclabili non è sicura ma non lo è non solo perché appunto non c'è segnato bene il cordolo non è alzolato il cordolo è c'è solo dipinta per terra e tutto lo è soprattutto perché abbiamo esasperato gli animi e quindi quando vedi un ciclista passare su quella pista ti fa arrabbiare pensa come siamo fatti male noi esseri umani ok ci fa arrabbiare perché ecco vedi l'ennesimo mi hanno fatto la pista ciclabile per quello lì che passa guarda lì è da solo poi non è così perché poi vediamo le immagini e ci sono decine e decine di centinaia di ciclisti che ogni giorno passano in via le monza in corso buenos aires in tantissime arterie su cui finalmente si è fatto questo lavoro di mettere degli spazi appositi per chi vuole vivere la città in una maniera diversa dall'automobile sempre di più spazi ma vi raccomando sempre più un dialogo The Avener Fade Out Lines qui su Cristal Radio Good Morning Milano vi ricordo sempre il nostro numero di whatsapp 3317853555 come sempre potete condividere con noi la vostra mattinata e tutto quello che un po' avete voglia di fare oggi e magari dirci anche cosa farete nel nel weekend andiamo ancora leggere qualche notizia dai giornali perché da vediamo come che cosa è Corriere Corriere della Sera Milano torniamo sulla questione Milano ristorazione eh sì Milano pezzi di vetro nel pane delle mense scolastiche indagata all'azienda sub fornitrice e produttrice allora già a sub fornitrice cioè io dico ma cioè non è neanche cioè non è la fornitrice sub fornitrice e poi c'è la produttrice quindi c'è uno che produce poi uno che questi qui li danno a qualcuno che a sua volta li dà Milano ristorazione che a sua volta li dà ai bambini delle nostre scuole cioè capite quanta gente c'è di mezzo quando adesso io poi dopo ogni tanto sarà l'età allora io chiedo scusa ai nostri ascoltatori e chiedo scusa soprattutto alle giovani menti che vado ad inquinare ogni mattina che sono la nostra regia la nostra produzione ma io davvero ogni tanto dico ma perché non si torna come una cosa so che è una roba da boomer da vecchio però dico ma perché devi fare tutto sto gran bordello per fare un panino da far mangiare a quattro marmocchi cioè questo è il tema cioè fallo nelle scuole prendi durante durante allora prendi guardate adesso c'ho la soluzione allora facciamo un lockdown di una settimana così tutti rimperiamo a fare il pane in un attimo ok quello è il corso di formazione dopodiché riapriamo tutto e prendiamo quelli che sono stati più bravi su tiktok e su instagram facci vedere come si panifica li mettiamo nelle scuole gli regaliamo un cellulare una ring light e tutti i giorni fanno tiktok su come si fa il pane nel frattempo fanno il pane per i nostri bambini avete visto che soluzione che vi ho trovato perfetta sala eccomi qua sono pronto a risolverti il problema delle scuole e del panino del pane milanese perché questo perché appunto è arrivata finalmente tutto quello che la procura ha detto la procura ha aperto questa inchiesta l'ipotesi di reato è commercio di sostanze alimentari nocive sia la conferma che quei pezzi che ogni tanto abbiamo detto essere di plastica non erano pezzi di plastica sono pezzi di vetro quindi sono anche un pochino più pericolosi rispetto al pezzo di plastica dopodiché credo così a naso che sono pezzi di vetro che comunque sono bene però il vetro si spacca sì effettivamente anche se sono smussati cioè si vede i vetrini del mare no che sono smussati e tutto però credo che quelli se li tagli a metà comunque li tagli col vetro cioè nel senso non è smussa gli angoli ma non il taglio non so come dire comunque sta di fatto che adesso in parte appunto il fascicolo è aperto in in procura a milano tutti dicono è colpa di qualcun altro ovviamente il sindaco ha detto comunque si sarebbe potuto cioè che avrebbero cercato di capire bene cosa è successo infatti vanno avanti anche in procura milano ristorazione non rientra nel nel novero delle persone comunque in attenzionato indagate al momento non ci sono problemi perché appunto non è roba che produce lei è appurato che il che anche lì mi piace dall'articolo si dice che è appurato che il i pezzi stranei non sono legati alla scuola o legati alla distribuzione da parte di milano ristorazione e invece una scientifica per questa roba cioè hanno aperto un panino hanno trovato il pezzo dentro è ovvio che non ce l'ho cioè nel senso se si apre un panino lo trovo dentro era già dentro non hanno messo dentro e poi c'era comunque mi piace che effettivamente la giustizia deve fare tutto il suo corso io la faccio facile lo so la faccio troppo facile però perché veramente non se ne può più di fare difficile tutto tutto è difficile quindi basta cioè facciamola facile diamo gli cracker e i cristini come hanno fatto in soluzione adesso direi che qual è la soluzione migliore questa soluzione mi piace sempre tanto no quella lì quella del non c'è il pane vai con i cristini ed eccoci qua di nuovo good morning milano crystal radio allora prima di andare in pausa e di introdurvi poi i nostri ospiti questa mattina saranno qui con noi perché è tornata a trovarci silvia gatti e quindi con lui e con lei ci porterà anche un ospite interessantissimo parleremo di gestione delle crisi no non le crisi vostre che avete tutti i giorni crisi di nervi non quelle e neanche quelli con vostra moglie vostro marito no altre crisi molto più grosse ma prima di andare vorrevo farvi un filone un trictico di articoli che vado a prendere da repubblica milano allora aspetta con quale partiamo vediamo questo no allora no è uguale da dove parto parto è uguale potremmo partire allora prima di tutto dall'inchiesta sull'urbanistica milano allora inchieste sull'urbanistica milano il comune si adegua giro di vite sui nuovi palazzi le regole per il via libera ai progetti la variante varate scusate le disposizioni per gli uffici sui programmi edilizi contro la paralisi dei permessi serviranno quindi dei piani attuativi in discussione anche la monetizzazione quindi si parla anche di sghei di soldi che molto probabilmente verranno aumentate le possibilità cioè le richieste da parte del comune per gli oneri urbanistici ad esempio i costruttori dicono però attenzione perché c'è il rischio ricorsi facendo così perché se cambi le regole in corsa alcuni che hanno già iniziato gli iter potrebbero fare ricorso se tu vai a chiedere altre cose perché chiedere più piani attuativi complessi e rilasciare meno autorizzazioni dirette questo quello che in poche parole dice il il comune privilegiare le cessioni di aree al comune da parte dei costruttori rispetto alla monetizzazione vedremo questo potrebbe portare a dei costi più alti per le costruzioni nel momento in cui sempre da repubblica leggiamo un altro articolo casa sempre più cara milano più 4,1 per cento nell'ultimo trimestre del 2023 la media più alta che nel resto d'italia scusate ma anche qui due settimane fa non avevano letto che al contrario cioè che stavano scendendo i prezzi e tutto com'è che adesso invece stanno risalendo più casa sempre più cara milano l'indagine istat sul mercato immobiliare nel capoluogo lombardo prezzi in rialzo per l'ottavo anno consecutivo dal 2022 al 2023 l'aumento è stato del 5,4 per cento e tutto questo porta alla terza notizia che troviamo sempre su repubblica milano perché le notizie buone non vengono mai da sole no si dice in questo caso e la notizia qual è affitti troppo cari a milano 7 studenti universitari su 10 70 per cento restano a vivere nella casa dei genitori 7 su 10 indagine fra 20.000 iscritti dell'università bicocca solo l'1 per cento trova posto in un residence pubblico dell'ateneo le famiglie più fragili pagano fra 500 e 700 euro perché cosa dai due locali modo locale no un posto letto mi piace perché voi non volete spendere 700 euro al mese non capisco non capisco come mai facciamo tutta questa polemica per 700 euro al mese per un posto letto mamma mia sei a milano ragazzi se la città della moda queste cose qui quanti stage devi fare a gratis prima che riesci a pagarti 700 euro al mese di posto letto mai niente perché infatti non riuscirai mai e quindi ecco perché il dato è davvero interessante quindi capiamo che c'è un tema casa a milano che va ben oltre quello che sappiamo e che continuiamo ogni volta a raccontare anche ad esempio le focus periferie che parla di edilizia popolare della erp no l'edilizia residenziale pubblica o tutto quello che appunto sono i grandi quartieri come nel quartiere quadrilatero di piazzale serinunte quelle zone lì grattosoglio no ecco il tema è anche un altro il tema che soprattutto gli studenti fanno fatica a vivere a milano in una città così cara come milano andiamo in pausa giornale radio e poi torniamo qui con i nostri ospiti good morning milano 22 marzo 7 e 54 minuti anna oxa un'emozione da poco alle 8 e 0 8 questo era il cristallistori delle otto di oggi venerdì 22 marzo ripetetelo tutti insieme a me thanks god is friday dopodiché se amate questa canzone non potete perdervi il pezzo di lo chiamavano gigobo grande film in cui luca marinelli interpreta questa canzone è qualcosa di spaziale io ho riamato questa canzone grazie all'interpretazione di luca marinelli in quel pezzo comunque invece andiamo avanti ve l'ho detto prima arrivavano in ospiti e sono qui in studio con noi sono e siamo contenti che è tornata a trovarci silvia gatti buongiorno buongiorno a tutte e a tutti ben ritrovati e ritrovate ciao fabio come va buongiorno silvia tutto bene grazie di essere ancora qui con noi grazie di essere tornata a good morning milano i nostri la nostra i nostri artigli della mattina con silvia gatti che bello non ho le unghie per oggi mi spiace giocavo sul fatto gatti gatti ah scusa io pensavo alle unghie finte no 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 giocavo su quello niente come non detto silvia oggi non viene da sola e anzi lascio a te presentarci con chi sei venuta a trovarci ma certo sono venuta con alberto mattia managing partner di panta rai o rei mi sono già dimenticata buongiorno alberto buongiorno a tutti grazie buongiorno alberto una persona seria fabio è una persona si diceva c'è la crisi c'è la crisi si diceva no ecco tu di questo ti occupi proprio io ne ho fatto un lavoro se non c'è crisi non c'è parti non no crisi non parti per mattia mi dai per la famiglia mattia no come funziona allora in realtà che cosa vuol dire gestire le crisi no questo lo fate no noi gestiamo diciamo supportiamo le aziende nella gestione della crisi che contrariamente in realtà quello che si pensa è una disciplina di prevenzione prevalentemente nel senso che noi aiutiamo le organizzazioni a prepararsi a eventi critici quindi il 90 per cento del nostro lavoro viene fatto prima di una crisi in vista di una crisi che speriamo non arrivi mai proprio poi purtroppo esatto c'è in italia c'è molta superstizione però purtroppo poi le crisi arrivano volenti o nolenti quindi insomma noi in qualche modo aiutiamo le aziende a prepararsi ricordo una cosa di prevenire meglio che crisare sì in questo caso a proposito di prevenzione una cosa molto interessante che mi raccontava alberto a proposito di grandi crisi c'è una grossa azienda della quale siamo autorizzati a parlare che è esse lunga per tutti gli imbruttiti che ha affrontato una grossa crisi prima ancora che arrivasse spiegaci alberto sì noi abbiamo supportato esse lunga e ripeto lo posso dire perché ne abbiamo parlato anche con con loro in diversi webinar che abbiamo fatto pubblicamente l'hanno detto loro stessi e mi fa piacere ricordare che loro hanno iniziato a prepararsi alla pandemia già alla fine del 2019 quindi prima ancora che arrivasse in italia perché cosa sapevano che non sapevano in realtà semplicemente erano attenti alle notizie che arrivavano no perché dalla cina si sapeva già da novembre dicembre no quello che stava succedendo nell'area di vuan all'inizio si pensava che fosse confinato lì no il problema loro però soprattutto sul periodo natalizio avevano tanto personale di cooperative che ovviamente lavorano con con il gruppo esse lunga che viene appunto dalla cina che è cinese quindi hanno iniziato a prepararsi perché hanno detto beh non si sa mai che magari qualcuno all'inizio ovviamente non pensavano come tutti noi che assumesse diciamo queste proporzioni poi la natura il problema però hanno iniziato a pensare a dire che cosa facciamo se effettivamente dovessimo avere dei casi di di covid no all'interno della nostra organizzazione e lì poi diciamo si è sviluppato ne stavano già lavorando su un progetto cosiddetto di continuità operativa no per per aiutare se lunga come facciamo con tante altre aziende appunto a prepararsi a continuare a operare no anche in condizioni molto difficili e ovviamente insomma questo gli ha consentito di essere in anticipo su quella che è la crisi e poi di gestirla dal punto di vista operativo molto bene quindi ne è uscita abbastanza bene tu dici rispetto ad altre aziende società che uno non hanno non hanno prevenuto e due forse non si erano accorte se lunga è stata avanti in questo grazie ai suoi fornitori collaboratori cinesi giusto ma allora sicuramente sicuramente è stata è stata un'azienda che muovendosi in anticipo è riuscita in parte a mitigare quelli che sono stati gli impatti poi non so rispetto altre società che operavano in quel settore perché non ho conoscenza diretta di altre aziende però sicuramente voglio dire esse lunga come tante aziende di quel settore di altri settori è un servizio essenziale noi supermercati non potevano chiudere avevano la deroga per continuare a operare mentre tutti noi fondamentalmente eravamo che attenzione metto questo non era solo un bene perché attenzione noi adesso è facile parlare se non si è fatta i soldi in quel periodo sì però la metà della gente era a casa anche loro cioè avevano anche loro quelli che stavano a casa con covid avevano quelli che non potevano uscire cioè gestire un'azienda così grossa con quella cosa lì non è solo atti sei fatti i soldi no è quello è tutt'altro che banale dal punto di vista operativo e vi assicuro che sono stati fatti degli investimenti enormi ma diciamo a prescindere da esse lunga pensate un'azienda che lavora sulla grande distribuzione e se lunga poi fa tantissimo anche produzione e pensate da un giorno con l'altro quando arrivato il lockdown il fatto di avere non so una percentuale di guadagni che arrivando dall'e commerce quindi dalle spese online che magari non dico che sia marginale però di certo non è non è maggioritaria rispetto al resto del fatturato magari del gruppo e letteralmente da un giorno con l'altro invertire magari questo questo trend cioè logisticamente non è banale è tutt'altro che banale quindi gestire una crisi di questo tipo prepararsi a gestire una crisi di questo tipo allora dire che a se lunga fosse pronta una crisi di questa proporzione ma neanche loro non diranno mai no naturalmente noi abbiamo fatto con loro un lavoro tra le altre cose anche di preparazione a questa cosa e sicuramente loro hanno hanno avuto il grande merito di vederla in anticipo in più forse c'è anche un gap culturale mi viene da dire nel senso che noi alle crisi diciamo passami il termine brutto alle sfighe non ci pensiamo mai no e quindi è una cosa che mettiamo sempre in secondo ordine ma poi succede ma non succede mica a me la mia azienda è tranquilla sempre agli altri ma la mia azienda è perfetta ma non succederà mai la mia azienda avere un momento di crisi ma crisi ma anzi noi siamo bravissimi non facciamo e poi invece le cose succedono quindi giustamente è fondamentale quello che dicevi per cosa fa dopo dell'operazione di prevedere in un certo senso che non vuol dire essere dei maghi ma capire che insomma tutte le aziende stare attenti ai segnali perché comunque c'erano dei fornitori io ho sentito poi non so se sia vero o meno che addirittura la comunità cinese dove l'hai letto? L'hai letto su Focus? L'hai letto dove? No l'ho letto sul Cioè Ok Anni 90 scusate Ho letto che la comunità cinese di Prato addirittura si metteva già le mascherine settimane prima quindi erano dei segnali particolari Paolo Sarpi si è avvasta quasi in auto lockdown Pensa L'avevano già chiuso tutto prima L'amico Giuseppe del ristorante cinese di Vienovara effettivamente qualche giorno prima l'avevano già chiuso Giuseppe è un nome tipico della Cina del nord est fra l'altro Sì 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 Giuseppe Giuseppina Dico solo questo Salute Giuseppe Vai Vienovara Non è pubblicità ma è perché lo amo per quello Io ho invece un cinese sotto casa sempre col bar che si chiama Luigi mia moglie Lisa Ecco vedi Tutto a posto Alberto è scioccato Scusa Alberto Scusaci No no ci mancherebbe Ma a proposito della malattia X senza creare alarmismi che qualcuno dice stia arrivando Ti chiedevo c'è già qualche società quindi che sta anticipando la sfiga di cui parlavamo poco fa con Fabio Vi hanno fatto richieste per paura? No Hai visto avevi ragione Sì ma come dicevate voi quello che diceva Fabio prima ha un nome proprio anche a livello psicologico C'è il fenomeno della negazione La malattia X ma in realtà anche il covid Noi chi fa il mio lavoro si occupa di piani pandemici da ben prima del covid C'era poi il tema dell'ebola Tutti diciamo tutti fenomeni molto diversi dal covid Poi io non sono un medico naturalmente No 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 certo però Non mi occupo dell'aspetto diciamo sanitario della questione Da un altro punto di vista comunque esiste la cosa che se ne dica Assolutamente dal punto di vista organizzativo è importante prepararsi Perché purtroppo poi quello che dice la comunità medico-scientifica è che potrebbe capitare qualcosa di simile Con maggiore frequenza in futuro Nel senso che noi siamo abituati a pensare alle pandemie come qualcosa che capita ogni cento anni Però la verità è che il contesto insomma Gomblotto Eh beh sì poi è quello Perché se qualcuno parla adesso potrebbe dire ecco chissà cosa Anche io più l'ho fatto Chissà cosa sapevano o che non lo sapevamo In realtà è semplicemente essere un po' più intelligente Cioè forse mi è da dire se non sono io il capo di essere lungo ci sarà un motivo Cioè anche quello Sì anche per me mi associo se non sono io Neanche in cassa mi presero ai tempi Ma a parte questo Li hanno sbagliato perché sono stato molto gentile e simpatica con i clienti Quindi avresti aumentando sicuramente le venite del punto vendita Quindi va bene Adesso Va bene allora andiamo un attimino con un po' di musica È il momento di ascoltarci Arcomi con Visti dall'alto insieme a Dardast Qui alle 8 e 17 su Crystal Radio Good Morning Milano Poi torniamo ancora a parlare di crisi Di gestione della crisi e come funziona Ma poi c'è anche un podcast molto interessante Tante cose Alberto Tante 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 E dai vieni su vieni su Comi siamo qua sali pure Carino Vieni in gazzia Carino No carino era modo di dire Sì sì come no va bene Può essere mio figlio La voce che sentite è la bella voce squillante di Silvia Gatti Che viene confermata anche dal whatsapp che è arrivato poco fa al 3317853555 Che dice un saluto alla briosa e simpatica Silvia Gatti Bella voce la sua Grazie Deve essere mia cugina Occhiolino E pollici in su È una cugina di nome Alberto No Almeno che io sappia Allora no non è tua cugina A proposito di Alberto Ce l'abbiamo qui in studio Alberto Mattia Managing Partner di Pantarei Ci stava parlando di come la sua società affronta le crisi Ma non crisi piccole Crisi a livello proprio quasi mondiale Nazionale, internazionale E Alberto ha fatto anche un podcast molto interessante Parlacene Sì il podcast si chiama Human Scritto Y-O-U-Man Tu uomo Tu uomo sostanzialmente Sì questo è un po' il senso Gioca ovviamente sul concetto di essere umano Su tu uomo E in qualche modo abbiamo iniziato a pensarlo In risposta all'esigenza di divulgare un po' quelli che sono i nostri concetti Volevamo parlare di resilienza Che è un po' il tema di cui ci occupiamo noi Senza menzionare mai la resilienza Perché oggi parli di resilienza La gente alza gli occhi al cielo Non ne può più Con scritto resilienza Poi ho un aneddoto anche collegato su tatuaggi e resilienza Perché noi con la nostra società Qualche anno fa Con un marketing manager della mia società di qualche tempo fa Volevamo capire perché il termine resilienza fosse diventato così di uso comune Perché noi ce ne occupiamo professionalmente E pensavamo nel nostro essere molto sofisticati In corrispondenza di qualche crisi Andiamo a vedere su Google Trend L'analisi e il boom di ricerca È stato dopo il tatuaggio di Gianluca Vacchi Gianluca Vacchi che ha più followers della Ferragni E che è indagato dalla finanza Mi sembra ultimamente Deve essere una costante Se hai più di un milione di followers No scherzavo 20 milioni E' una battuta E' una battuta Vabbè salutiamo anche Gianluca Vacchi E ci dicevi Alberto Sul podcast Quindi diciamo avevamo voglia di divulgare su queste tematiche E allora ho parlato con questa mia carissima amica Nonché ottima professionista Che è Vittoria Pietra Che è una dottoressa psicologa e psicoterapeuta Che tra l'altro mi ha anche aiutato molto personalmente nella vita Poi ne parliamo se vuoi E l'idea era quella di creare un percorso ideale Infatti abbiamo creato 21 puntate da mezz'ora circa ciascuna Ciascuna con un argomento Partendo dal rischio Che è la prima puntata Le ultime due sono il successo e la gioia Ok E' tutto un percorso Perché l'idea era quella di affrontare il percorso mentale Il processo mentale è una persona che si trova a affrontare un rischio Che poi è il nostro lavoro Sì E deve cercare di risolvere la questione con successo Con l'obiettivo poi di essere felice nella vita È bello obiettivo questo Obiettivo sfidante chiaramente Abbastanza Che non si raggiunge poi mai veramente nella vita No ci si prova E' la ricerca La ricerca Bravo Io e Alberto siamo già connessi Pazzeschi Allora me ne vado Bene ok Già dalla felpa abbiamo capito la connessione Chi ci sta guardando in grado su Milano News può capire Per gli altri Pazienza Guardate il podcast poi su Spotify Vi telefonerete Torniamo al podcast Tornando al podcast Questo era un po' il senso diciamo del percorso che volevamo fare È venuto fuori una cosa secondo me molto carina Dove possiamo ascoltarlo e vederlo E' su Spotify e su YouTube Naturalmente tutte piattaforme gratuite Quindi diciamo E' stato un primo esperimento Perché in origine l'idea era scrivere un libro Poi ci siamo guardati Io vi sarebbe detto Ma quando ce l'abbiamo il tempo di scrivere un libro Ma poi chi lo legge? La gente ascolta il podcast No sto scherzando Oggi è anche commercialmente più difficile Ma comunque diciamo non avevamo neanche il tempo materiale Quindi abbiamo deciso di fare queste discussioni a due Che sono letteralmente delle chiacchierate Non è scritto E in cui io mi preparo diciamo un paio di citazioni a puntata Che mi servono come spunto per sviluppare la discussione Io dico sempre faccio l'utile idiota Poi i miei amici che l'hanno guardato hanno detto No ma non sei utile Perché la vera star è Vittoria Ma non sei neanche idiota però poveri Adesso ma che amici hai? Stavo pensando sono degli amici Begli amici Non si sceglie Ma battute a parte la vera star del podcast In realtà è Vittoria Pietra Che diciamo dalla sua prospettiva di psicologa psicoterapeuta Mi spiegano il funzionamento della mente umana Che è un aspetto secondo me molto interessante Perché io parto dall'assunto Che noi insegniamo diciamo alle organizzazioni Essere resilienti A sviluppare questa capacità Però l'assunto appunto che un'organizzazione Non può essere resiliente se le sue persone Non sono resilienti E quello è un tema naturalmente più da psicologa psicoterapeuta Per cui ho chiesto Vittoria di con me creare questa iniziativa Sì poi lei ovviamente è entrata anche nella parte proprio creativa Decisionale del processo Sono dato un enorme contributo Fra poco parleremo anche di come Questa psicologa psicoterapeuta ti ha aiutato È una cosa tua personale Che però ci vuoi esporre È molto interessante da ascoltare Entriamo nell'intimo? Sì beh abbastanza Un'ultima domanda Ti sei tatuato Resilienza da qualche parte? No, non ho tatuaggi Non penso di farmene Però non Mai dire mai Mai dire mai Una bella idea Non resilienza ti tratto Anzi Antiresilienza Un'alternativo Sì basta Non parlatemi di resilienza Un gotico sulla pancia Non mi voglio portare il lavoro sulla pelle Fabio te prego Abbiamo una persona in giacca Ti assicuro che ho visto ospiti in giacca Che poi sotto quelle giacche Sotto quelle giacche Ecco L'abito non fa il monaco Chissà E non ci sono più le mezze stagioni Ma c'è ancora per fortuna la musica Oltre alle nostre chiacchiere Bella musica Perché Sta per arrivare Rebel Rebel Di David Bowie Qui su Crystal Radio Alle 8.26 Good morning Milano E grazie all'ufficio programmazione Che ci dà queste perle Grazie David Bowie Come diceva appunto La mia nostra Silvia Gatti Rebel Rebel E gli applausi di Calcutta Sono tutti per Silvia Gatti Che è qui con noi oggi in studio E anche per Alberto Mattia Il nostro ospite Managing Partner di Pantarei È arrivato un Whatsapp Che parla appunto di resilienza Ce lo scrive il nostro amico Ambrogio Che dice A proposito di resilienza Mi sovviene Guardate che Mi sovviene Non mi viene in me Mi sovviene Pensate che pubblico che abbiamo Un mitico brano dei Queen Under Pressure Che diceva La pressione mi butta giù Ti schiaccia Nessuno lo vorrebbe Sotto la pressione Che riduce In cenere un palazzo Divide in due una famiglia Getta le persone sull'astico Ma nessuno appunto Ti schiaccia Nessuno lo vorrebbe Ed è lì Che si chiama Alberto Mattia Appunto Per risolvere la situazione Con Pantarei Se posso dire Su questo tema Dell'Under Pressure C'è una bellissima citazione Di Hemingway Che dice Il coraggio è saper mantenere La grazia sotto pressione Che io lo uso tantissimo Nei miei corsi Di crisis management Il coraggio Il coraggio è saper mantenere La grazia sotto pressione Ah non di Eminem Di Hemingway Hai detto Il contrario del coraggio No perché stavo pensando A quello che sono In questo caso Codardo Ecco perché non riesco Molto a gestire Quella roba lì Mi sa io no Mantener la grazia sotto pressione Beh è molto facile a dirsi Molto difficile a fare Sì Mantenere la grazia Poi è difficile Io non ce l'ho già Di default Pensa a Graziella Anche e all'altra Scusaci Alberto Ogni tanto dobbiamo Tornare qui Nei vasti fondi Grazie a Silvia Prima della pausa Parlavamo del fatto Che il tuo lavoro Si affronta le crisi Degli altri Ma tu ne hai Insomma avute Anche nella tua vita In particolare Infatti Bella domanda Bella domanda Allora Parliamo Del fatto che innanzitutto Prendiamola un po' alla larga Se sei d'accordo Io sono venuta A conoscenza appunto Dell'attività di Alberto Mattia E di Pantarai Perché l'ha condiviso Selvaggia Lucarelli Su Instagram Io seguo Selvaggia Lucarelli Scusate non odiatemi Ecco alcuni mi ameranno Altri mi odieranno Per questo E ho detto Bah Se l'ha ricondiviso Selvaggia Lucarelli Farà poi un botto Di visualizzazioni E così poi è stato Ho avuto le mie 24 ore Da influencer Grazie a Selvaggia Lucarelli Sì però Ha fatto bene Selvaggia ricondivide Cose valide Ecco Che cosa è successo Avete parlato un po' in privato Di cosa anche Sì ma allora Fondamentalmente Sono entrato in contatto con lei Perché ho condiviso Io ho creato questo mio profilo Instagram pubblico Sì I am Alberto Mattia Sì Sotto Natale più o meno Nel senso Ce l'avevo già quel profilo Ma era addormento Non avevo neanche il nome Instagram Neanche la foto profilo Sì E sotto Natale O meglio Subito dopo Ho raccontato Diciamo Ho avuto come esordio La condivisione La mia esperienza Perché io sono sopravvissuto Allo tsunami del sud est asiatico Si può dire così Passare oltre Cioè racconta bene Cioè cosa è successo? 26 dicembre del 2004 Io avevo 16 anni Al tempo Ed ero in vacanza Con i miei genitori A Phuket In Thailandia E quella mattina Eravamo sul lungomare Di Patong Beach Quando è arrivata l'onda Avevamo parcheggiato la macchina Da 5 minuti Letteralmente Arriva l'onda Ci prende letteralmente Essendo lì Insomma non poteva essere Altrimenti E miracolosamente Tutti e tre Sopravviviamo Perché Il negozio Dove siamo stati Letteralmente sbattuti dentro Non so se siete mai stati A Patong Beach Però di fatto è una spiaggia Con un lungomare dietro Con una strada Con tanti negozietti E l'unico motivo Per cui siamo sopravvissuti È che quel negozio Va a un retro Fundamentalmente Quindi Insomma poi Sulle mie storie Instagram C'è tutto il dettaglio Con anche qualche foto In evidenza Possiamo andare a vedere Sì nelle storie in evidenza L'ho raccontata Sì in italiano che in inglese Prendendo anche delle foto Perché poi sono tornato L'anno dopo Quindi ho fatto una minima Di Piccolo personalissimo Documentari Certo ci sta Erano foto di quando avevo 17 anni al tempo Sì Sì Niente di Non vi aspettate Niente di clamoroso Però Voglio dire È interessante comunque I.M. Alberto Mattia È il profilo Instagram Su cui si può vedere questa cosa La domanda secondo me La domanda fondamentale è Non come si sopravvive Allo tsunami Come si sopravvive Allo tsunami Esatto È quello Esatto Ma infatti allora lì Diciamo poi il motivo Per cui sono entrata Anche in contatto Con Selvaggia Lucarelli È che avevo condiviso Una serie di riflessioni Su fatti e vicende Su cui preferirei Diciamo Sorvolare Sì sì È un'altra cosa Però l'avevo taggata Su una questione Su cui lei era Insomma molto Molto attiva Sì in quel periodo Supportando quello Che lei diceva Perché mi trova molto d'accordo Sì E da lì abbiamo iniziato A chiacchiarare un po' Poi in realtà Le ho riscritto Quando ho pensato Per la prima volta Diciamo un paio di settimane fa Qualche settimana fa Di fare un video Di commento A un'intervista Che è uscita il 3 marzo Sul Corriere della Sera Ad Alessandro Benetton Che parlava Della gestione Del caso Ponte Morandi E delle ripercussioni Sì Sulla famiglia Benetton Che come si è Insomma era proprietaria Al tempo di autostrada Esatto E io ho fatto questo Questo commento Di 5 minuti Le ho scritto In privato Molto carinamente Mi ha risposto Per chiederle un parere Su una questione Diciamo tecnica Di comunicazione Su cui mi interessava Dal suo punto di vista E lei mi ha dato il parere Ha visto il video E finita lì Il giorno dopo Ho visto che l'ha ricondiviso Sulle sue storie E questo naturalmente Per me che avevo al tempo Era un mese e mezzo Che avevo quel profilo Avevo ben 170 follower Quindi niente Sostanzialmente E il pomeriggio Stavo lavorando E ero in conference call Con un cliente Ho dovuto disattivare Le notifiche di Instagram Perché il video In 24 ore Ho fatto 387.000 visualizzazioni 1.800 like Mi pare una cosa del genere E mi ha creato Grazie ancora a Selvaggia 1.200 circa Follower in più Numeri importanti Sì Numeri ovviamente Che nel contesto generale Di Instagram Non sono niente Per carità Per te Da dove partivi Però Sì Poi io mi occupo Di una questione Che purtroppo È ancora molto Di nicchia E l'idea L'idea era quella Partire dal podcast Diciamo Un paio d'anni Che sto cercando Di fare un po' Di divulgazione Un po' più pop Anche su queste tematiche E quindi sicuramente Mi ha dato Un grosso boost Mi ha creato Un piccolo pubblico Diciamo Tra cui sei arrivata Eccomi Ehi là Che fortuna 3002 Dovevi bloccarli prima Mi ha creato anche Silvia Gatti Mi spiace È un piacere E quindi Diciamo Da lì Ho iniziato A pubblicare Anche qualche Piccolo altro reel Che ovviamente Non è andato virale Come il primo Ma va benissimo Comunque E niente L'idea è quella Di cercare Di divulgare Di parlare un po' Di queste tematiche E poi diciamo Prima della pausa Stavamo parlando Anche di come ho conosciuto Vittoria La psicologa Psicoterapeuta Che fa con My Human E io l'ho conosciuta In realtà Proprio dopo lo tsunami Come diceva Fabio Come si sopravvive A uno tsunami Io non lo so Nel senso che È puramente casuale Chi è che lo sa Non c'è niente Ma io infatti Se guardate tutte le mie storie In quanto hai capito Che era un grosso guaio Quello che stava succedendo Io l'ho capito dopo Che era un grosso guaio Ma addirittura Cioè La cosa assurda Perché noi Allora Io Erano ancora I tempi I giovani che ci seguono Non si rendono conto Ma non c'erano gli smartphone Non c'erano i wifi Ancora così diffusi Ai tempi Quindi io avevo il mio Nokia Chiuso in camera In albergo In cassaforte I miei genitori Avevano i telefoni cellulari Era quei periodi In cui accendevi il telefono cellulare E spendevi più o meno Uno stipendio medio Solo perché l'ho accendevi Quindi il mio cellulare Era in albergo In cassaforte Ed è l'unico che si è salvato Perché invece I miei genitori Che erano con me Ovviamente hanno perso tutto Nell'onda Come tutto quello In tasca L'abbiamo perso E quindi diciamo Noi siamo stati sfollati Tra virgolette Sul tetto Di un holiday inn Di Patong Per tutta la giornata E fino a quel momento Non sapevamo Cioè Chi era a casa Aveva la percezione Di quello che era successo Molto prima di noi Tu dicevi Successo a me E questa cosa che vedi intorno Non capivi quanto Pensavamo fosse un problema Confinato lì E io mi sono reso conto Noi ci siamo resi conto Della questione Quando siamo riusciti A rientrare in albergo Che era più o meno Mezz'ora da dove eravamo Con un tuk tuk Più o meno alle 10 di sera 10 e mezzo di sera E abbiamo acceso la CNN Abbiamo visto quello Che è successo E quindi Poi come racconto Io la prima volta Diciamo che ho avuto Veramente paura di morire Era quando tecnicamente Ero già in salvo Ecco vedi Perché la mente umana Meccanismi Sì infatti quella è una cosa Che anche con Vittoria Ho indagato Anche nel podcast Anche se non lo menziono subito Perché nel podcast Parliamo di questa cosa Ma verso la metà Più o meno Però lei che ovviamente Già sapeva Perché mi conosceva Da quel dì Ho indagato E una cosa che mi affascina molto È perché io non ho avuto Minimamente paura durante Cioè io durante Non ho avuto minimamente paura Perché il cervello È andato completamente in protezione Sì Un po' l'adrenalina Penso anche del momento Sì certo Però io ho realizzato Ho detto Caspita Cioè a 16 anni Io sono morto Tra qualche minuto Ero convinto di morire Nel giro di pochissimi minuti Quando ero Diciamo sul retro Di questo negozio Siamo stati spinti Fortunatamente In corrispondenza delle scale Quando si è fermata La forza della prima onda Siamo saliti su queste scale Abbiamo raggiunto Questo balcone Che però era ancora A fronte mare Purtroppo E da lì abbiamo visto L'onda che si ritraeva E la seconda Diciamo onda Che è stata poi Anche quella Un po' più alta E lì io Poi fortunatamente Quel balcone a retto Quella struttura a retto Da lì comunque Ce ne siamo andati Da lì è iniziato McGyver Con mio padre Che è stato fantastico Da questo punto di vista E Diciamo passando Per balconi e tetti Abbiamo raggiunto Questo holiday inn Che era un po' Il palazzo in vista Più alto Che c'era Però lì Ho avuto proprio La netta sensazione Ok adesso sto morendo E lì È la prima volta In cui ho avuto paura Tecnicamente Ero già in salvo Senza saperlo Però poi Diciamo Il vero strascico Psicologico Arriva dopo Naturalmente E arriva in realtà Neanche Neanche dici Subito dopo Perché poi chiaramente I giorni dopo Sono angoscianti Per mille motivi Certo Perché vedi tutto il contesto Ma sono poi le settimane I mesi dopo Infatti anche quando Poi ovviamente Non è che Io dico sempre Non è che sono esperto Di crisis management Perché sono sopravvissuto Allo tsunami Perché è come dire Che sei un esperto Di arti marziali Perché ti hanno picchiato Non è così Abbiamo capito perfettamente Non funziona così Ho dovuto ovviamente Studiare eccetera Però Quello che dico poi Anche facendo leva Sul mio vissuto E la mia esperienza È che La crisi Spesso ha delle ripercussioni Anche nel lungo termine Quando i riflettori Si spengono Perché poi dipende Dal tipo di crisi Naturalmente Però spesso All'inizio Hai l'empatia del pubblico Che ti aiuta Ti tira su Come ti dicevo prima Quando parlavamo fuori onda Nelle settimane Immediatamente Successive allo tsunami Ti tiene molto Sul fatto che Tutti ti chiedono E quindi è un modo Anche per esorcizzare Quello che è di successo Poi ti trovi da solo Fra virgolette Poi la tensione La tensione diminuisce E tu Cominci a Ricordare Pensare Non so Si di fatto Quello che è successo a me Poi È la mia esperienza Non è detto che Deba capitare a tutti Ovviamente Però la mia esperienza È che mesi dopo Letteralmente mesi dopo Quindi molto dopo Ho iniziato ad avere Attacchi di panico E disturbi da stress Post-traumatico Che ho dovuto Ho dovuto E devo tuttora gestire Anche adesso Un copino Diciamo Fortunatamente Ho una vita normalissima Senza nessun tipo di Handicap No no Vabbè certo Però magari qualche Strascichino Sì sì Gli strascichi ci sono sempre Ci saranno sempre nella vita E bisogna gestire Chiaramente va a periodi Ci sono periodi Anche di mesi o anni In cui non succede niente Nei periodi in cui magari Peraltro poi Diciamo Lo tsunami è un po' Una scusa Un pretesto Nel senso che Nascono sempre da problemi Che uno ha Magari internamente Che derivano da questioni Ben più profonde Ben più Addirittura Dici che quindi è stata La punta dell'iceberg In realtà Sotto chissà cosa c'è Da un episodio grave Ti si scatena tutto Ma perché c'è già Una base Diciamo che la base La base c'è sempre Un po' per tutti Sì Chi più chi meno Naturalmente Poi Però insomma Il fatto che gli attacchi Di panico Siano comunque Un riscontro Pare così frequente Poi non sono uno psicologo Naturalmente non mi addentro Troppo nel tecnico Però non è che tutti Hanno subito Diciamo dei traumi Tutti quelli che hanno Attacchi di panico Hanno subito dei traumi No è vero È vero In realtà In realtà non è detto Ad esempio I miei genitori Che io sappia Non hanno mai avuto Attacchi di panico Anche perché Probabilmente questa crisi L'hanno vissuta già Molto più da adulti Certo erano più grandi Tu avevi 16 anni Ad esempio Uno spunto di riflessione Che mi aveva dato Vittoria al tempo Era il fatto che Comunque i miei genitori Avevano già perso Un genitore E quindi Avevano già fatto i conti Con l'idea della morte Perché ti ricordi Proprio quando dicevi Succede sempre agli altri La negazione In realtà quando ti muore Un genitore Forse è la prima volta In cui ti rendi conto Che morirai anche tu Anche tu parmi questo gioco Esatto Perché i genitori Sono l'esempio Quindi anche nel morire In qualche modo Sono l'esempio E il fatto che tu Te ne renda conto prima Senza ancora aver perso i genitori Che è stato È un bello svarione Certo È un po' destabilizzante Intanto arrivano i complimenti Quasi in chiusura Silvia con il nostro ospite Alberto Mattia Ma so che insomma Volevi chiedere questo nome Pantarei Sì Pantarei Da dove arriva Perché Scritto in maniera Poi in particolare Panta staccato R-A-Y Sì Correto Ma allora Il nome ovviamente gioca Sul concetto filosofico Di Eraclito Del tutto scorre Il Pantarei Scritto alla greca R-E-I Salutiamo Eraclito Che ci segue Che ci segue Certo L'irreppensibile Te ricordi come diceva Esatto E no Poi siccome la società In realtà l'ha fondata Mia madre Che purtroppo Se non c'è più Però Quando faceva brainstorming Su come chiamare la società Sua sorella Mia zia Che ha fatto studi classici Le è venuta appunto L'idea del Pantarei Mia madre però Veniva da una lunghissima carriera Di oltre 33 anni In JP Morgan Chase Grande banca americana Carriera molto internazionale Quindi voleva dare Anche un'internazionalità A questo concetto di Pantarei Allora ha pensato di Scrivere diversamente R-E-I Scritto R-A-Y Che in inglese vuol dire raggio Per dare l'idea Dell'illuminazione Come se fosse una cosa Appunto illuminante Quello che fa Che faceva E che adesso sto portando avanti io E quindi questa è un po' L'origine del nome Il perché è scritto Anche in maniera così particolare Non per niente È la boutique Nell'affrontare le crisi È la boutique Dove affrontare le crisi La sua società Perché porta la luce Porta la luce Dove c'è la tene Come ha fatto oggi Alberto I miei venerdì però Non Good Morning Milano Mi state creando aspettative Aspettative altissime Sempre Sempre Nella vita Aspettative altissime Come fare a seguirti invece Dove ti troviamo Come seguiamo Ricordaci anche il pod Insomma Tutte le coordinate Ma allora io Mi trovate sui canali social Prevalentemente Instagram I am Alberto Mattia Team Pantarei È l'account social della società Human Podcast Scritto sempre Y O Human Podcast Per il podcast Io poi sono su LinkedIn Per gli amanti del genere Social molto particolare È un genere Il genere non è male Esatto Social network più autoreferenziale Della storia Però sono anche lì E tra l'altro sono molto più presente In realtà In termini di follower Che su altre piattaforme Però stiamo cercando di divulgare In maniera un po' più pop Per cui se mi seguite su Instagram Sono anche contento Posso mandare in bacca tutto? Secondo me c'è un social Che è peggio Più autoreferenziale Che OnlyFans Fabio Ti ho detto di non dirlo Che l'ho aperto Cavolo Fabio Allora dacci le coordinate Silvia Gatti Sto scherzando Ma ci penserò Ci penserò No dacci le coordinate Che tu e Silvia Però per seguire Sui vari social Silvia Gatti on air Non vi aspettate niente Cioè abbiamo appena avuto Alberto Mattia E poi dalle stelle Alle stalle Io ti seguo Silvia Anche io ti seguo Grazie Anche la costura Anche la costura Poi io non c'ho Fabio Te prego Fabio Com'è che non vi aspettate niente? No Perché Io allora Adesso tu vai Cancelli la bio E scrivi questa frase Secondo me Questo deve essere La tua cosa Non vi aspettate niente? No Non mi fare questo Sto cercando di emergere Radiofonicamente No fallo tu E poi mi dici Come ti sei trovato Ok? Con una frase del genere Oggi lo cambio Oggi lo cambio Non vi aspettate niente Io torno fra due settimane Però tra due venerdì Ci seguiamo? Sì 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 Torni qua Silvia Segnatevelo sul taccuino Mi raccomando Mettetelo nel calenda Come dicono in questo caso Ti inserisco in agenda Ecco inseritelo Così vi arriva il pop up E potete almeno cambiare canale Che fortunati Ah no Cioè no potete Scusate Stavo dicendo Potete ascoltare Grazie ad Alberto Mattia Di Pandarei Che è stato qui con noi Seguitelo Adesso bisogna tenere alto Però il livello Fabio dopo Alberto Come si fa? Oh no no Sono prodotto Se tu che mi porti Non lo so No no Anche fra due settimane Un'ospite interessantissima Ve lo diremo nelle stories Magari ve lo anticiperemo Nei prossimi giorni Infatti infatti Allora grazie ancora A Silvia Gatti Grazie ad Alberto Grazie a voi Noi ci risentiamo Fra due settimane con Silvia E invece come sempre Qui su Cristal Radio Con Gulbano di Milano E ora sigla 8 e 55 minuti Di oggi 22 marzo E siamo arrivati alla fine Di Good Morning Milano Dopo di noi Lo sapete come sempre C'è Ambrogio Curti Con SentiQuest La grande musica Internazionale e nazionale Raccontata Spiegata Insomma tutto questo È la mattinata Di Cristal Radio Insieme ad Ambrogio Curti Con SentiQuesta Se invece volete Risentire questa puntata C'è GoodMorning.Milano.it Il nostro sito Ma anche il podcast Su Spotify YouTube Apple Music Google Podcast Insomma potete anche inventarvi Una piattaforma Sicuramente noi lì ci siamo Il weekend si avvicina E quindi mi raccomando Fatelo bene Fatelo buono Anche so già Che siete già pronti Ad andare Alla Polentoteca A mangiare l'altra parte In Valtellina A mangiare i pizzocchi Lo so Fatelo E poi lunedì Ce lo vente qua a raccontare Le voci che avete sentito Oggi sono state quelle Di Alberto Mattia Silvia Gatti E qui Fabio Ranfi Come sempre alla consola Grazie ancora Ad Elisa e Maria In regia Noi ci risentiamo Rivediamo Riascoltiamo Lunedì Qui su Cristal Radio Con una nuova puntata Di Good Morning Milano Ciao a tutti Milanesi